Questa sera ho presentato il BIM. Il BIM è il Building Information Modeling e serve per migliorare la gestione, la progettazione, realizzazione e costruzione, ma soprattutto gestione di un edificio. In particolare mi sono soffermata sulla riqualificazione degli edifici esistenti e quindi nella possibilità di modellare gli edifici e di arricchirli con tutte le informazioni che servono per poterne fare una gestione programmata, intelligente e quindi eventualmente riqualificare sulla base delle informazioni che sono insite nel modello BIM. Grazie.